Sicuramente il problema della tratta, come accennava il Dottor Lebra, è un problema ampiamente sottovalutato dai media, che emerge alla mente, emerge settorialmente, emerge in contesti già avvisati dell'esistenza del problema e questo è un problema che meriterebbe un'analisi specifica, perché non si presta attenzione a questo fatto, forse in larga misura per difetto di informazione non ci si rende conto del fatto che in Europa occidentale, in particolare in Italia, nel nostro paese esistono oggi decine di migliaia, non qualcuno, ma decine di migliaia di soggetti che operano in condizioni di sostanziale schiavitù, ridotti in schiavitù. Secondo la Caritas, mi pare, vado a memoria, ma il dato mi pare di ricordarlo correttamente, le persone tratticate ogni anno sono qualche decina di migliaia, mi sembra 50 mila, mi sembra che il dato sia quello, oggetto di tratta anno per anno, il che significa che a livello nazionale esistono decine di migliaia di persone che operano in condizioni di schiavitù, il che se ci pensate è spaventoso, dove si consideri che si riteneva che la schiavitù in Europa non esistesse più, quantomeno dal XVIII secolo. In realtà a differenza di quanto comunemente non si creda il cristianesimo non ha eliminato l'istituzione della schiavitù, l'istituto giuridico della schiavitù, ha semplicemente stabilito che non potevano essere ridotti in schiavitù i cristiani, ma fino al 1700 c'erano molti musulmani ridotti in schiavitù, spesso costretti a rimare sulle galere militari e l'istituto è stato, credo, formalmente abrogato soltanto con la legislazione rivoluzionaria alla fine del 1700, quindi è perdurato nella tradizione anche giuridica europea fino al 1700, però si riteneva che dal 1700 in poi la schiavitù non esistesse più ed era sostanzialmente vero fino a 20 anni fa, oggi abbiamo, fra noi anche se spesso sono invisibili, diventano visibili solo quando associazioni come Liberazione Speranza si preoccupano di renderle visibili, persone ridotte in schiavitù, prevalentemente schiavitù di tipo sessuale, ma non esclusivamente schiavitù di tipo sessuale perché ci sono anche molte persone, soprattutto provenienti dall'Estremo Oriente, che sono ridotte in condizioni di sostanziale schiavitù lavorativa, ma non solo dall'Estremo Oriente, per esempio in Puglia ci sono stati importanti indagini del DDA e coordinate da Direzione Nazionale Antimafia che hanno evidenziato forme di schiavitù nel settore agricolo con addetti provenienti in particolare dai paesi dell'Est e in particolare dalla Polonia. Credo che non ci sia nessun reato che offende in modo tanto intollerabile i beni costituzionali fondamentali dell'essere umano, la libertà, la dignità e a volte anche la vita. E quindi è importantissimo discutere di questo problema perché il primo passo che deve essere compiuto è quello teso all'emersione della consapevolezza dell'esistenza del problema della tratta e della libertà. Ciò premesso, io mi occupo di prostituzione e anche di riduzione di schiavitù che è un reato specifico da una decina di anni, in realtà i reati di tratta e di riduzione di schiavitù non sono di competenza della Procura della Repubblica Ordinaria, ma sono di competenza della Direzione di Strettura Antimafia, ma spesso la DDA di Torino applica magistrati delle procure ordinarie a singoli procedimenti che riguardano la tratta o la riduzione di schiavitù, anzi lo fa sistematicamente, io sono stato applicato diverse volte. Io penso che nel discutere di tratti e riduzione di schiavitù si deve metodologicamente in primo luogo partire dai concetti, cioè cosa si intende per tratta e come può essere differenziato da fenomeni affini ma diversi. La nozione di tratta è stata cristallizzata dalla normazione internazionale, in particolare la formalizzazione e cristallizzazione del concetto risale al primo protocollo della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale del 2000, che fu una importante convenzione internazionale nella quale si discuteva di crimine transnazionale, una convenzione internazionale dell'ONU, nella quale si distinziano i concetti di trafficking e di smuggling. Lo smuggling può essere tradotto in italiano come immigrazione clandestina, sostanzialmente, è un contratto, una sorta di contratto, illecito come un contratto, un accordo tra due o più soggetti, tra un passeur, cioè un soggetto che si preoccupa di far passare la frontiera ad un clandestino e un clandestino, è un extra comunitario che intende venire in occidente, in paesi occidentali per cercare lavoro o comunque cercare di campare meglio di quanto non campi nei paesi di provenienza. Quindi è un rapporto che si esaurisce con l'ingresso del clandestino nel paese di destinazione ed è un rapporto nel quale la volontà dei soggetti è libera. La distinzione rispetto alla tratta è netta, la tratta comporta indubbiamente un ingresso clandestino in un certo paese occidentale di destinazione, ma l'elemento differenziale consiste nel fatto che il soggetto trafficato viene poi sfruttato nel paese di destinazione, cioè l'ingresso clandestino di un soggetto in un paese ricco, per esempio in Europa, per esempio in Italia, al fine di sfruttare quel soggetto. Quindi il rapporto fra l'organizzazione che gestisce la tratta e il soggetto trafficato non si esaurisce con l'ingresso clandestino, ma con l'ingresso clandestino comincia la fase più difficile e dura della vita di quel soggetto che viene ridotto abitualmente in schiavitù al fine di essere sfruttato o dal punto di vista sessuale, questa è la forma più indagata di riduzione in schiavitù e di tratta, ma anche per altri scopi, a scopo lavorativo o anche per altri scopi più marginali ma inquietanti. Per esempio ci sono soggetti trafficati per estrarre gli organi di quei soggetti, organi che poi entrano in un mercato clandestino, oppure sfruttati a fine di mendicità, abbiamo condotto indagini come applicati alla DDA, io e il Dottor Seriani che avevano d'oggetto, soprattutto il Dottor Seriani, che avevano d'oggetto dei ragazzini marocchini che venivano prelevati dalle loro famiglie in Marocco, trafficati, portati in Italia e costretti a mendicare in condizioni di sostanziale schiavitù, quindi le forme di sfruttamento sono diverse. Ovviamente in questo caso, lo ribadisco, il rapporto del soggetto trafficato e l'organizzazione criminale non si eseguisce con l'ingresso clandestino ma prosegue con la fase dello sfruttamento. Spesso si tratta di forme di sfruttamento violento, anche se non sempre si può ritenere che lo sfruttamento sia violento. Un'altra caratteristica saliente della tratta è la natura non volontaria del rapporto, mentre appunto nello smuggling, lo smuggler è il soggetto clandestino, stipulano un contratto in modo del tutto volontario che poi si esaurisce con l'ingresso clandestino. Nel caso di trafficking la volontà del soggetto trafficato è vinta via Tarmis, cioè vinta con la violenza o con la minaccia, oppure comunque viziata, coartata dall'inganno o coartata da condizioni di estremo bisogno. Il legislatore nazionale ritiene correttamente, a mio giudizio, che non si possa ritenere libera una volontà che è condizionata dalla condizione di estrema miseria del soggetto trafficato che in qualche modo è costretto, per non morire di fame spesso, ad accettare condizioni sostanzialmente nana della schiavitù. In alcuni casi la volontà è vinta proprio dalla violenza, dalla minaccia, si tratta di una forma di tratta che erano tipiche, ma in parte sono ancora tipiche, di organizzazioni criminali di matrice est-europea, in particolare albanese. È in fase, in parziale fase di regresso, ma lo è fino a un certo punto, perché molto recentemente, due o tre settimane fa, abbiamo arrestato due persone ucraine che avevano sostanzialmente ridotto l'inschiavitù delle ragazze dell'est con metodi violenti, quindi non è una cosa scomparsa, indubbiamente. I trafficanti di esseri umani dall'est sono prevalentemente albanesi, non esclusivamente albanesi, ma prevalentemente albanesi ed era prassi, ma in parte ancora prassi, in questi casi ricorrere al sequestro di persona, ricorrere al stupro delle ragazze trafficate al fine di spezzarne la volontà e di costringerle ad accettare un destino che tranquillamente preferirebbero evitare, al fine normalmente diminuire in Italia di prostituirsi. La tratta dall'est è una tratta che ha uno scopo eminentemente di natura sessuale. La condizione di queste ragazze è una condizione tremenda, lo è ancora oggi, lo era forse più nel passato, ma lo è ancora oggi, sono assolutamente normali le violenze, gli stupri, le continue omigliazioni da parte del trafficante e poi dello sfruttatore. C'è poi la volontà viziata non dalla violenza, ma la volontà viziata dall'inganno, si dice alla ragazza che si vuole portare in Europa, che verrà in Europa a lavorare e invece poi la si butta su una strada appena in Europa. Questo è un meccanismo che invece è più tipico, è tipico anche all'est, ma è molto tipico della tratta nigeriana, è raro che si sequestri, penso che io l'ho mai visto, un sequestro di persone di una ragazza nigeriana poi costretta fisicamente in Europa, in generale si inganna, o c'è un rapporto consensuale che però è viziato dalla condizione di miseria estrema o c'è un inganno della ragazza. Poi la fase dello sfruttamento violento in genere avviene in Italia, quando arriva in Italia allora lì sì, ci possono essere dei meccanismi violenti anche perché la ragazza si trova di fronte a una situazione che non aveva previsto, che non gli era stata spiegata inizialmente. Appunto la volontà, ritiene il legislatore, è coartata anche dall'estrema violenza, non si può considerare libera la volontà di una donna che accetta di sottoporsi in un viaggio, che spesso ha caratteristiche epiche, la traversata nel deserto, il dottor Libra ha letto, come ho letto io, forse anche sentito, ho sentito io, narrazioni di traversate del deserto da parte delle ragazze nigeriane trafficate che sono delle narrazioni epiche, perché la traversata del deserto è qualcosa di tremendo, ci sono le persone che attraversano il deserto, oggi non 200 anni fa le carovane dei trafficanti, oggi. I soggetti trafficati muoiono come mosche perché le condizioni sono condizioni che si possono immaginare, cioè un freddo polare di notte, un caldo estremo di giorno, l'esposizione a rischi di tutti i tipi in un contesto incontrollato. Non è, dicevo, possibile ritenere che coloro che accettano di sottoporsi ad un viaggio così pericoloso, travagliato, tremendo e poi ad una vita da schiava lo facciano perché hanno una volontà libera, lo fanno perché non possono agire diversamente perché l'alternativa è spesso morire di fame in patria, senza che ci sia bisogno espressamente di violenza di minaccia. La tratta si associa poi nel luogo di destinazione alla riduzione di schiavitù che è un altro reato, il legislatore prevede la tratta all'articolo 601 del codice penale e la riduzione di schiavitù all'articolo 600 del codice penale. Quindi la distinzione dello smarling rispetto al trafficking sta proprio nella teleologica, cioè è il fine che distingue il tipo di attività, nella tratta il fine è di sfruttamento nel paese di destinazione e poi l'altra caratteristica assaliente è la natura coartata e non libera della volontà e quindi la tratta si associa normalmente ad una riduzione di schiavitù nel paese di destinazione. Lo sfruttamento è uno sfruttamento di tipo prevalentemente sessuale, ma non esclusivamente sessuale, poi semmai ci torniamo dopo. Prima di analizzare le rotte della tratta, in particolare le rotte che riguardano la provincia di Novara, qualche nota sulle caratteristiche delle organizzazioni criminali che si occupano di tratta, di gestire la tratta di esseri umani, non sono emerse sino a questo momento organizzazioni criminali italiane, che le organizzazioni criminali italiane gestiscono direttamente la tratta di esseri umani, sono sempre organizzazioni straniere, il che non esclude che poi le organizzazioni criminali italiane escruttino il lavoro fatto dalle organizzazioni straniere. Ci sono degli esempi che ho già fatto, per esempio in indagini della DDA di Napoli era emerso come la Camorra affittasse un settore della strada litoranea, della statale domiziana, della strada litoranea nella zona flegrea mi pare, a organizzazioni criminali nigeriane che poi lì ci mandavano le ragazze che venivano sfruttate. Quindi c'era un affitto della Camorra ad un'organizzazione criminale nigeriana e quindi in definitiva poi l'organizzazione criminale italiana ritraeva un beneficio economico dal lavoro fatto da altri, così come è noto come le organizzazioni criminali italiane spesso gestiscono locali notturni, spesso gestiscono i night nella nostra zona in Piemonte e Lombardia, è l'Andrangheta che spesso gestisce locali notturni. Ecco l'approvvigionamento dei locali notturni con prostitute avviene grazie alla collaborazione di organizzazioni internazionali straniere che gestiscono la tratta. Le organizzazioni, quindi in primo luogo le organizzazioni criminali che gestiscono la tratta sono normalmente straniere, non saprei citarne una esclusivamente italiana e gli italiani a volte vengono inseriti nell'organizzazione ma raramente con funzioni direttive, spesso con funzioni complementari, ancillari, non gestorie. Anche noi abbiamo istruito in un paio di occasioni organizzazioni di internazionali nella quale c'erano italiani ma che svolgevano una funzione complementare, non di direzione. Le organizzazioni che gestiscono la tratta devono essere pensate come dei network criminali, come delle reti criminali. Ciascuna settore, una sorta di struttura modulare costruita da diversi moduli criminali, ciascuno dei quali gestisce una fase della tratta, il reclutamento, le fasi della tratta sono poi essenzialmente tre, il reclutamento, il trasporto della merce, dell'essere umano e il successivo spruttamento. In genere i moduli criminali che gestiscono le diverse fasi sono diverse e qui penso che si possa capire la difficoltà ad investigare il fenomeno perché appunto si tratta di anelli uniti ma distinti, di una stessa catena. Ed è per questa ragione che il legislatore ha ritenuto che fosse opportuno attribuire la competenza ad investigare sulla tratta non alle procure ordinarie ma alla direzione distrittuale antimafia. Peraltro la direzione nazionale antimafia in più di un'occasione ha sottolineato come le indagini in questa materia siano troppo poche e sono troppo poche perché sono indagini molto difficili. Sono indagini che richiedono una cooperazione transnazionale e spesso non facile perché un conto è collaborare con la Francia o con la Svezia, allora mandi la richiesta rogatoria, di commissione rogatoria, insomma bene o male ti rispondono, un conto è collaborare con la Cina, non c'è neanche da pensare di mandare una rogatoria in Cina pensando che la rogatoria venga evasa. La rogatoria è una richiesta di collaborazione che l'autorità giudiziaria nazionale fa ad un'altra autorità giudiziaria straniera, per mio conto fai questa cosa, fai un interrogatorio, fai una perquisizione, fai delle intercettazioni telefoniche, fai qualcosa, che rende estremamente complesso investigare il fenomeno della tratta a livello transnazionale. Un'altra caratteristica tipica della tratta, delle organizzazioni criminali in materia di tratta è il legame ontologico organico che esiste fra la tratta e la corruzione soprattutto nei paesi di provenienza, c'è una corruzione sistematica dei funzionali pubblici, in particolare dei funzionali di pulizia o dei funzionali delle dogane, della frontiera senza le quali è inimmaginabile l'organizzazione della tratta, questo in Nigeria, questo in Guinea, questo nel Togo, questo in parte anche nei paesi occidentali perché poi alle frontiere spagnola o francese, in qualche forma di corruzione è indente. Poi, quali sono le rotte della tratta? Cioè da dove viene la tratta, o quantomeno con riferimento alle rotte di tratta che interessano la nostra provincia? Allora, la tratta viene sicuramente dall'est, dalla Moldavia, dall'Albania, dalla Romania, dall'Ucraina, come dicevo prima, la maggior parte delle donne trafficate viene da queste nazioni orientali, in minor luogo, in minor misura dalla Polonia o dalla Repubblica Ceca, direi che le nazioni più rappresentate sono la Moldavia, l'Almania, la Romania e in parte l'Ucraina. Il grosso del prostituto dell'est hanno questa provenienza. La tratta dall'est è gestita prevalentemente da albanesi, ma non esclusivamente da albanesi, spesso è gestita da network meschi, albanesi, rumeni, albanesi, russi. Ci sono anche dell'organizzazione criminale di trafficanti bulgare, ma sono poco presenti nella nostra area, non abbiamo riscontrato la presenza, sono invece molto presenti nel nord-est, i bulgari trafficano verso il Veneto, il Friuli. Le caratteristiche della tratta dei paesi dell'est a fine di sfruttamento sessuale essenzialmente sono estremamente violente, anche se oggi il rapporto si è evoluto in senso parzialmente consensuale. Nel passato, negli anni 90 e poi ancora nei primi anni 2000, era assolutamente abituale il ricorso al sequestro di persona, le ragazze albanesi che venivano sequestrate nei villaggi, portate in un luogo chiuso, nascosto, stuprate per giorni per spezzarne la volontà e poi portate in Italia o in altri paesi occidentali per farle prostituire. Era assolutamente abituale, io ricordo la sensazione di profondo sconcerto che ho provato alla Procura di Milano, perché allora faceva l'auditore alla Procura di Milano di Milano, diciamo più di dieci anni fa, quando mi capitò di leggere i primi fascicoli che riguardavano tratta, allora era qualificata prevalentemente come assolutamente la prostituzione, cioè si usavano altre qualificazioni giuridiche, e leggendo le storie di queste ragazze che mi sembravano incredibili, leggendo le prime avevo il sospetto che non potessero essere vere, e poi quando ho cominciato a leggere le 5-10, allora ho detto, beh, non è che possono essersi tutti inventati la stessa storia, significa che è vero, sono di ragazze prelevate con la violenza nei loro villaggi, in genere villaggi di montagna albanesi del nord dell'Albania, gli albanesi sono divisi in due grandi etnie che hanno connotazioni linguistiche diversi, gheghi e toschi, la tratta viene prevalentemente dal nord dell'Albania, rapite, stuprate per giorni e poi buttate sulla strada in Italia, ragazze della vostra età, cioè di 16 anni, 17 anni, di 20 anni, il che dovrebbe indurre delle riflessioni. Oggi il rapporto è evoluto in senso maggiormente consensuale, in parte perché ci si è resi conto che la reazione penale dell'ordinamento è molto forte e quindi lo sfruttatore tende a cercare il consenso della vittima, perché una vittima consenziente è una vittima che meno difficilmente denunzia o collabora con le autorità giudiziarie e poi c'è stata anche un'opera di diffusione di conoscenze, di informazione nei paesi di provenienza in Albania, in Romania, in Ucraina e quindi le ragazze sono anche maggiormente avvertite dei rischi che corrono e ci cascano decisamente meno. Sul nostro territorio c'è una presenza ancora significativa, anche se forse minore rispetto in passato è di donne slave, c'è sempre una presenza comunque rilevante di albanesi anche se sicuramente molto meno rispetto al 1995-1997 quando credo che il grosso delle prostitute dell'est fossero albanesi. oggi sono rumene, oggi sono moldave, sono ragazze dell'est, la tratta dai paesi dell'est alimenta sicuramente la prostituzione di strada, alimenta molto la prostituzione in appartamento e alimenta molto la prostituzione nei night, nei locali notturni chiusi, nei quali comunque vengono replicate forme di sfruttamento violente perché anche da indagini recenti abbiamo capito come i sfruttatori albanesi tendono a collocare le ragazze nei night per poi sfruttarle, le affidano al gestore del night il quale sa che però sono soggetti sfruttati e poi il provento dell'attività di prostituzione viene direttamente girato allo sfruttatore e lì però si replicano forme di sfruttamento violento. Lo abbiamo già detto in altre occasioni, è in sicura espansione la prostituzione in luoghi chiusi, non solo nei night ma anche in appartamento rispetto al passato ed è una prostituzione molto meno visibile e molto meno controllabile e anche molto meno attingibile da parte di associazioni come Liberazione e Speranza che possono vedere le ragazze sulla strada ma non riescono a vedere le ragazze in appartamento e quindi anche quelle iniziative legislative che tendono a chiudere la prostituzione in luoghi chiusi vanno considerate con molta prudenza perché c'è il rischio di nascondere la violenza, nascondere lo sfruttamento e non renderlo percepibile dall'esterno. Le valutazioni da fare sono diverse, sono di politica legislativa, il problema non è nascondere la violenza, il problema è che semmai non la vedo, non c'è, non esiste, non è un problema mio, la violenza c'è, va fatta emergere, va stroncata perché secondo me è incompatibile con i principi sui quali si fonda lo Stato liberale e democratico occidentale, non è tollerabile, è una ferita inferta al corpo delle nostre democrazie che a mio giudizio non è tollerabile, non si può risolvere il problema nascondendolo. la nostra procura ha investigato organizzazioni criminali albanesi che operavano soprattutto nella zona di oleggio perché c'è la strada che porta là, ma pensa che ha un grosso valore commerciale e quindi tende a replicarsi la presenza di prostitute su quella direttrice, abbiamo stroncato due organizzazioni albanesi, una albanese pura, le indagini erano cominciate qua, erano poi finite la direzione di struttura antimafia di Milano per competenza che poi ha eseguito, ha concluso l'indagine, ha eseguito gli arresti e l'altra invece era mista albanese rumena e l'abbiamo condotta noi e gli arresti li abbiamo fatti noi. Poi c'è un'altra rotta che viene dalla Cina di persone che vengono trafficate non solo a scopo di sfruttamento sessuale ma anche a scopo di sfruttamento lavorativo, le organizzazioni che gestiscono la tratta sono puramente cinesi o sono cinesi miste, turche, cinesi si appoggiano alla mafia turca, la rotta passa attraverso l'Afghanistan, poi attraverso la Turchia, la Grecia, i Balcani e poi arriva in Europa occidentale. E' una rotta di tratta che alimenta il lavoro clandestino e alimenta la prostituzione in appartamento, non mi risultano cinesi sulle strade, ci sono invece moltissime ragazze cinesi in appartamento, le forme di sfruttamento non sono forme di sfruttamento brutali, sono forme di sfruttamento sostanzialmente consensuali, d'altra parte i cinesi hanno un grosso spirito commerciale come popolo, è una sorta di settore economico gestito con criteri di tipo liberista, dominato dalla legge della domanda e dell'offerta, ci sono le ragazze disponibili a prostituirsi che cercano una madame che offre loro la possibilità di lavorare in appartamento, noi abbiamo intercettato in più occasioni nel contesto di diversi procedimenti penali delle conversazioni tra le madame e le ragazze nelle quali ci si accorda sulla spartizione del profitto, dicendo 60, 40, 50, 50, ma lì devo dire non mi è mai capitato di trovarmi di fronte a forme di sfruttamento brutale, il che non esclude che il reato da contestare sia difficilmente la riduzione di schiavitù, più che altro l'articolo 3 della legge Merlin, lo sfruttamento della prostituzione. La prostituzione in appartamento, soprattutto cinese, è molto diffusa, abbiamo condotto almeno due indagini, una è credo sia stata la più grossa indagine condotta a livello nazionale sulla prostituzione cinese in appartamento, l'operazione Majang che è adesso un po' ricca lente del 2006 e un'altra è molto recente perché l'abbiamo scrociata in arresti pochi mesi fa, ci sono stati 5 arresti, anche lì c'erano diversi appartamenti con diverse ragazze che operavano gli appartamenti a Torino, a Moncaglieri e a Novara. La prostituzione è alimentata dalla stampa, io l'ho detto e continuo a dirlo, ma vedo che i miei appelli non finiscono nel vuoto fino a quando non si dovrà agire con altri metodi. Vengono pubblicate sulla stampa, negli annunzi commerciali delle forme pubblicitarie, non si disse più massaggiatrice, una volta si diceva massaggiatrice, adesso va molto di moda a dire maga dell'amore, non è che ci vuole molta scienza capire che cosa sia la maga dell'amore che viene dall'est o appena arrivata, sesta misura, maga dell'amore, però alcuni organi di stampa fanno finta di non capire, forse bisognerebbe riflettere sul fatto che quello strumento lì è il principale strumento di reperimento dei clienti e quindi in definitiva consente di replicare forme di sfruttamento di esseri umani, forse bisognerebbe rifletterci su questo fatto. Anche perché a volte sono anche forme di sfruttamento violenta o comunque sono forme di sfruttamento. Poi c'è l'internet, ci sono i canali internet, ma per quanto riguarda per esempio gli appartamenti cinesi, insomma lo sfruttamento e la prostituzione dei cinesi, io credo che il canale pubblicitario fondamentale sia ancora rappresentato agli organi di stampa, soprattutto agli organi di stampa locale. E appunto, ripeto, bisognerebbe forse interrogarsi sull'opportunità dettata da pure ragioni di lucro di continuare a pubblicare annunzi di questo tipo facendo finta di non capire, perché si tratta proprio di far finta di non capire che cosa sta dietro a questi annunzi. Poi c'è una rotta molto poco indagata dal Sud America, che è una rotta che porta in Italia prevalentemente dei transessuali, a scopo ovviamente di sfruttamento sessuale dal Brasile, dal Peru, dall'Equador, le organizzazioni criminali sono di matrice sudamericana. Poi c'è la rotta nigeriana, una rotta africana che significa essenzialmente rotta nigeriana, perché poi non mi risultano prostitute non nigeriane, a volte alcune dicono di non essere nigeriane, ma in realtà sono nigeriane, che è tuttora quella più importante nel nostro territorio, anche quella più indagata, è una forma di tratta che è destinata esclusivamente al sfruttamento sessuale. La prostituzione nigeriana è davvero un mondo separato, poi se mai ci torno, che ha propri codici, proprie prassi, una sorta di ordinamento giuridico autonomo rispetto a quello dello Stato, una specie di società nella società che ha codici molto precisi, che vanno indagati e conosciuti, che è difficile indagare con strumenti diversi le intercettazioni, anche noi siamo riusciti a farlo sentendo le telefonate, sentendo migliaia di telefonate. Il reclutamento avviene in Nigeria, in genere la ragazza viene reclutata sulla base di conoscenze di natura personale, familiare, della madame o a volte è la madame che si rivolge a organizzazioni criminali che procurano la ragazza e le organizzazioni criminali anche qua però riescono a reclutare la ragazza sempre sulla base di conoscenze di tipo personale, amicale e familiare. Bisogna tenere conto del fatto che in Nigeria ci sono organizzazioni criminali storiche molto radicate, molto compenetrate anche con le istituzioni nigeriane, il problema dell'infiltrazione mafiosa, in senso lato, in Nigeria è molto più importante credo di quanto non sia in Italia dove già è un problema estremamente serio. Ci sono organizzazioni criminali radicate come Black Axe che hanno storia, tradizioni, codici culturali, capacità di condizionamento degli enti e delle istituzioni anche della politica nigeriana. Una forte specializzazione criminale, cioè certe organizzazioni criminali reclutano le ragazze in certi stati della federazione nigeriana e le portano in certi altri stati occidentali. Per esempio le organizzazioni criminali che si occupano dell'Italia prelevano le ragazze pressoché esclusivamente da Edo State o da Delta State e le portano in Italia. Le ragazze nigeriane che lavorano in Svezia, in Norvegia o nel Regno Unito vengono da altri stati normalmente, c'è questa forte componente di specializzazione criminale. L'acquisto di una ragazza comprensivo di viaggio nel deserto costa dagli 11.500 ai 12.000 Euro, questo è un dato che abbiamo ricavato da indagini, da intercettazioni telefoniche e credo che c'è un valore di mercato abbastanza preciso. Oggi sono dati di un paio di anni fa perché l'indagine del 2009, gli importi erano quelli lì. È normale, come dicevo prima, l'inganno a fini di reclutamento della ragazza, si dice vai a fare la parrucchia, vai a fare le trecine in Italia, invece quando arrivi in Italia scopri che devi andare sulla strada. È assolutamente normale il ricorso il voodoo come strumento di condizionamento della volontà, il voodoo è una forma di religione popolare estremamente diffusa in Africa, non soltanto in Nigeria, che ha una grossa capacità di condizionamento delle menti, delle persone, soprattutto in settori della popolazione meno acculturati. La Nigeria è un grossissimo Stato, un Stato molto grande con oltre 100 milioni di abitanti, credo 120 milioni di abitanti con etnie, con faglie di divisioni di tipo etnico, di tipo religioso, di tipo linguistico, è un mondo. Come dicevo prima, le ragazze che lavorano qua vengono tutte da Edo State, le rotte, le modalità della tratta sono mutate nel corso degli anni. In passato i soggetti trafficati venivano prevalentemente in aereo e sbarcavano prevalentemente a Parigi, anche se non esclusivamente a Parigi. Poi si vede che da un lato i costi sono divenuti forse eccessivi, dall'altro lato i controlli agli aeroporti, a Charles de Gaulle e gli altri aeroporti francesi si sono elevati perché anche gli strumenti di contrasto si sono affinati e quindi è divenuto preferibile trafficare attraverso il deserto. La rotta deserta che ne ho già parlato prima è una rotta allucinante, poi a un certo punto si biforca perché o si prende una rotta che finisce in Libia o si prende una rotta che finisce in Marocco. Poi per un certo periodo di tempo la rotta libica si è interrotta grazie ad accordi fra il nostro paese e il precedente governo libico, che il nostro paese ha fatto bellamente finta di non sapere cosa succedesse in Libia e ha fatto bellamente finta di non sapere che cosa significava interrompere brutalmente le rotte di tratta, perché comunque per certi versi è preferibile farle arrivare in Italia piuttosto che non lasciarle in Libia, una volta che sono in Libia. Oggi bisogna vedere come si ristruttureranno le rotte attraverso il deserto, c'è stato un periodo di tempo intorno al 2007 nel quale secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni due terzi delle persone, dei clandestini che arrivavano a Lampedusa erano nigeriane, ragazze nigeriane destinate a prostituirsi in Italia, poi il dato è fortemente calato dopo gli accordi fra governi, oggi dobbiamo capire come è destinato a devolversi il sistema, perché è un business estremamente redditizio per i libici e per le organizzazioni che gestiscono la tratta attraverso il canale di Sicilia. L'altra rotta di tratta è quella che passa attraverso il Marocco e Gibilterra, la Spagna e poi la Francia e l'Italia. La traversata desertica costa solo 3 mila euro, costava intorno al 2000 oggi, non so come si è evoluto il mercato in questi anni. I ruoli sono precisi, c'è un ruolo di reclutamento che avviene in Nigeria con le modalità che in parte ho detto, ci sono contatti spesso familiari e amicali, poi c'è coloro che si occupano di gestire la tratta, i cosiddetti trollis che sono i soggetti che accompagnano la ragazza e poi c'è lo sfruttamento in Italia d'opera delle madame. Sfruttamento che spesso è brutale, a volte direi spesso associato a forme di violenza estrema, in molti fascicoli, in molti casi ho constatato la presenza di forme di vera e propria tortura a carico di ragazze, ragazze che venivano seviziate con cucchiai roventi o aborti praticati con modalità che è meglio non riferire, ragazze costrette a prostituirsi in gennaio con semi nude, costrette a prostituirsi quando erano al maestro, cose che forse può raccontare il dottor Lebre, non so perché poi spesso il riferire le storie serve più che non fare tanti discorsi perché le storie hanno anche una capacità di impatto psicologico molto forte. Le ragazze nigeriane che si prostituiscono in Italia si prostituiscono tutte su strada, all'estero la tratta nigeriana alimenta anche la prostituzione dei night, ma ci sono forme di legislazione diverse, per esempio in Austria ci sono parecchie ragazze nigeriane che lavorano nel night, abbiamo condotto diverse indagini che hanno consentito di comprendere i meccanismi, sono anche state diverse condanne, io ho condotto un'indagine grossa e anche importante che però è stata sottovalutata, secondo me è stata sottovalutata sicuramente dai media che credo che se ne siano neanche quasi accorti, è stata sottovalutata ahimè anche dal GIP, io l'ho chiesto più di 10 provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di altrettante madame nigeriane e soggetti che si erano dedicati al traffico e invece mi hanno dato una misura cautelare, un carcere, solo un provvedimento carcerale nei confronti del soggetto più gravemente indiziato, dicendomi sì ci sono i gravi indizi di colpevolezza su tutti, però è passato del tempo, non ci sono le esigenze cautelare, secondo me c'è stata una forte sottovalutazione, in realtà l'indagine è stata fondamentale perché sono stati mesi e mesi di intercettazioni che sono servite a sentire le madame, sentire le conversazioni tra le ragazze e le madame e comprendere i codici culturali che sono molto profondamente diversi dai nostri, quello che ho capito, lo avevo già intuito prima, ma ad ascoltare proprio per i mesi di intercettazione non si capisce in modo molto netto, la prostituzione nigeriana è un mondo a sé stante, è una sorta di società nella società, un universo parallelo che ha codici socio-culturali completamente diversi tra l'altro che affondano le loro radici in contesti culturali profondamente radicati, africani e anche una lingua specifica, ci sono proprio codici linguistici particolari tipici di quel settore che vanno conosciuti, che vanno compresi e anche una sorta di ordinamento giuridico parallelo che ha proprie istituzioni che anche qui vanno riconosciute, per esempio se ne possono citare alcune, la rilevanza del joint, il joint è il luogo dove la ragazza svolge la prostituzione. La prima ragazza che si è prostituita in un certo luogo, ipsofatto, diventa proprietaria, titolare di una sorta di diritto reale sul joint, diritto reale che può essere poi venduto, dato in locazione che il joint viene affittato ad altre madame che poi ci mettono lì una ragazza o direttamente alla ragazza che ha in frattempo pagato il debito, moltissime conversazioni telefoniche ruotano attorno al tema del joint, del non mi hai pagato l'affitto, ne lo voglio io, non lo vuoi tu, insomma c'è tutto un mondo e però si capisce che si tributa un estremo rispetto al diritto che spetta alla madame di gestione del joint, a volte ci sono una sorta di controversie civilistiche su chi è l'effettivo titolare del joint. Un altro istituto radicato è quello del debito, la ragazza arriva in Italia gravata da un debito, ti ho portato in Italia e per il fatto di diverti portato in Italia per farti prostituire mi devi 40 mila euro, mi devi 70 mila euro, mi devi 60 mila euro e me li devi pagare, fin quando non me li hai pagati non sei libera, nel momento in cui me li hai pagati sei libera, ti liberi e poi più o meno fai quello che vuoi e dalle telefonate ci si rende conto di come in realtà tutte prostitute e madame siano estremamente condizionate dal debito, anche la prostituta è condizionata dal debito, lo sa che deve pagare il debito, anche perché il pagamento del debito è spesso sanzionato dal pactum fondato sul voodoo, per cui ha un valore sacramentale, il debito è sanzionato dal punto di vista sacramentale, a me ricorda tanto istituti del diritto romano, il pactum stipulato ex iure quiritium, cioè stipulato con le modalità e con le forme del diritto dei quiriti, dell'antico diritto romano, anche qui la sanzione sacramentale del pactum steso al pagamento del debito è molto presente nelle coscienze e nella psicologia delle ragazze, le quali hanno molto paura del voodoo, lo sapete bene, alcune riescono a emanciparsi, altre no, non completamente. Poi c'è un'altra caratteristica tipica della prostituzione nigeriana, la carriera criminale, cioè la ragazza viene in Italia, paga il suo debito e poi tende a replicare gli stessi meccanismi criminali, perché poi una volta che ha pagato il debito compra una ragazza che fa arrivare dalla Nigeria e il meccanismo tende a riprodursi e noi intercettando, abbiamo proprio seguito un paio di queste vicende di ragazze che si erano appena liberate dal pagamento del debito e affannosamente cercavano di mettere insieme 12-13 mila Euro per far arrivare la ragazza dalla Nigeria, la ragazza che poi è arrivata a Reggio Emilia, è venuta qua, è stata sotto forme di sfruttamento. Ci sono poi, conclusivamente, poi dopo ho parlato troppo, ci sono altre forme di sfruttamento presenti anche sul nostro territorio di tipo lavorativo, cinesi, prevalentemente persone cinesi che vengono portate in Italia per costringerli a lavorare nelle fabbrichette, qualche fabbrichetta nelle quale si lavorava 18 ore al giorno e praticamente non uscivano mai di lì e l'abbiamo anche scovata e chiusa. Ecco, io direi che ho esagerato, mi fermo qua e poi se è necessario torniamo. Grazie.